In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, libro primo, capo, sedicesimo, del sopportare i difetti altrui. Le cose che l'uomo non può emendare in se stesso o negli altri deve pazientemente sopportare, finché il Dio disponga altrimenti. Pensa che forse è meglio così per provare la tua pazienza, senza la quale non è da far gran caso dei meriti nostri. Per tali impedimenti, però, devi pregare il Dio, si degni di aiutarti, affinché tu li possa sopportare con amore. Se altri avvertito una o due volte non sa queta, non contrastare con lui, ma poni tutto nelle mani di Dio, affinché sia fatta la volontà e la gloria sua in tutti i suoi servi. Sa ben egli volgere il male in bene. Procura di essere paziente nel tollerare i difetti e le debolezze altrui, qualunque esse siano, poiché anche tu hai molte cose che gli altri sono costretti a tollerare. Se non puoi rendere te stesso quale vuoi tu, come potrai avere gli altri a tuo beneplacito? Volentieri desideriamo perfetti gli altri, ma intanto non emendiamo i difetti nostri. Vogliamo che gli altri si correggano rigorosamente, e noi non ci vogliamo correggere. Ci spiace la larga licenza negli altri, ma a noi non vogliamo nulla negato di quanto chiediamo. Vogliamo gli altri stretti alla regola, e noi non vogliamo in vero modo essere regolati. Da ciò dunque si vede quanto raramente mettiamo il prossimo a paro con noi medesimi. Se tutti fossero perfetti, che cosa avremmo allora a soffrire dagli altri per Dio? Ora invece Dio ha ordinato le cose in modo che impariamo a sopportare gli uni il peso degli altri, poiché nessuno è senza difetto, nessuno senza gravezza, nessuno basta a sé medesimo, nessuno è abbastanza sapiente per sé, ma conviene che a vicenda ci sopportiamo, a vicenda ci consoliamo, che l'un l'altro ci diamo aiuto, istruzione, ammonimenti. E quanto altri sia virtuoso, meglio si fa manifesto nell'avversità. Poiché le occasioni non rendono l'uomo fragile, ma lo fanno vedere qual è. Capo diciassettesimo della vita religiosa Bisogna che tu impari a romperti in molte cose, se vuoi conservare la pace e la concordia con gli altri. Non è piccola cosa abitare nei monasteri o in compagnia di altre persone e vivere quivi senza ragnarsi e perseverare fedelmente sino alla morte. Beato chi bene vi trasse la vita e felicemente ve la terminò. Se vuoi stare come devi e far profitto, considerati come esule e pellegrino sopra la terra. Se vuoi menare vita religiosa, bisogna che tu diventi stolto per Cristo. L'abito e la tonsura giovano poco. Ciò che fa il vero religioso è il cambiamento dei costumi e la totale mortificazione delle passioni. Chi cerca altra cosa fuorché il Dio solo e la salute dell'anima propria non troverà che tribolazione e dolore. Neppure può stare lungamente in pace chi non procura di essere minimo e soggetto in ogni cosa. Sei venuto a servire e non a governare. Sappi che sei chiamato a patire e a faticare, non a stare ozioso e chiacchierare. Qui dunque sono provati gli uomini siccome oro in fornace. Qui nessuno può durare a lungo se non vuole umiliarsi con tutto il cuore per Dio. Laudetur Iesus Christus Semper laudetur In nomine Patris et Filii E Spiritus Santi Amen Grazie a tutti